Siamo a Pieve Fissiraga, in provincia di Lodi, dove si trova uno degli stabilimenti produttivi dell'azienda leader in Europa nella rigenerazione di olio usati, Visco Lube. Il concetto di sostenibilità rappresenta per Visco Lube una parte fondamentale del suo DNA. La sua attività si basa infatti sulla valorizzazione di un rifiuto, l'olio usato. Ne parliamo con l'ingegner Francesco Gallo, direttore dello stabilimento produttivo Visco Lube a Pieve Fissiraga. Per Visco Lube sostenibilità vuol dire proprio Green Economy, infatti grazie al nostro processo proprietario Revivoil siamo in grado, mediante una serie di operazioni di distillazione e di un processo di idrofinissaggio, di ottenere a partire da olio usato basi lubrificanti con caratteristiche prestazionali uguali e talvolta anche migliori delle basi ottenute a partire dalla prima distillazione del petrolio. Si manifesta anche un bilancio ambientale positivo, infatti il nostro processo ha evidenziato minori emissioni di CO2 rispetto al tradizionale processo di raffinazione a partire dal petrolio. La vocazione Green di Visco Lube si riconferma anche nella scelta dell'azienda di installare un impianto di cogenerazione. Effettivamente uno dei fattori critici di successo nel business di Visco Lube è certamente il costo dell'energia elettrica. In questo senso abbiamo pensato ad una soluzione impiantistica che ci permettesse di autoprodurre l'intera energia elettrica e di consumare anche l'energia termica che viene prodotta tipicamente in un processo cogenerativo. Ci siamo proprio quindi orientati su una classica cogenerazione a partire dal motore endotermico. Abbiamo scelto una taglia da 2 MW e grazie ai contenuti costi attuali del metano siamo riusciti a ottenere un risparmio in termini di costi dell'energia elettrica pari al 35%, guadagnando ovviamente in competitività. Infatti si tenga presente che nel nostro caso il payback dell'investimento è stato di due anni. Andiamo quindi a vedere da vicino questo impianto di cogenerazione. Cogenerazione Installare un impianto di cogenerazione richiede la sua perfetta integrazione ai processi produttivi dell'azienda. Qual è l'esperienza di Visco Lube in questo senso? È stata quella di effettuare preventivamente un dettagliato studio degli assorbimenti di energia elettrica e di energia termica da parte del nostro processo valutando le diverse utenze e l'assorbimento pro utenza. In particolare abbiamo avuto modo di verificare che nel nostro processo uno dei maggiori fattori diciamo di difficoltà nell'introduzione della cogenerazione era l'assorbimento di energia termica. Il nostro processo da questo punto di vista ci ha facilitato tantissimo perché considerate che operiamo H24 e nel processo di rigenerazione la norma sono le alte temperature. Tanto è vero che l'energia termica prodotta dal cogeneratore è stata tranquillamente inserita nella rete vapore di stabilimento ovviamente garantendo ovviamente un'integrazione di successo. Il buon funzionamento di un impianto non può prescindere anche da una corretta manutenzione. In che modo Visco Lube gestisce questa necessità? Allora Visco Lube ha gestito e gestisce la manutenzione dell'unità cogenerativa che per noi ovviamente rappresenta il concetto di affidabilità dell'impianto. L'affidabilità è chiaro che in un processo continuo è fondamentale ed è intrinsecamente legata alla manutenzione. Il miglior modo per affrontare il tema della manutenzione in modo efficiente era quello di assicurarsi ovviamente con un contratto di manutenzione la possibilità di interventi just in time e non solo, assicurarsi anche un'attenta politica di manutenzione preventiva. Per questo Visco Lube ha stipulato ovviamente un contratto di service. Un altro fattore legato ovviamente all'affidabilità e alla manutenzione è stato poi per Visco Lube quello di cercare di evitare la necessità di crearsi un'expertise interna sia in termini di manutenzione che di gestione dell'impianto. E questo ovviamente è stato risolto sia col contratto di manutenzione per quanto riguarda la manutenzione ma da un punto di vista gestionale, quindi del monitoraggio tecnico operativo dell'impianto è stato risolto grazie ai sistemi di controllo che possono essere anche remotati. Infatti pensate che oltre a poter osservare l'impianto dalla nostra sala controllo lo possiamo anche noi manager osservare dai nostri computer.